Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti Andiamo a riparare questo lettore dvd sinudine che è un low cost, è un lettore dvd di quelli che supportano i vari formati dvx mp3 un po vecchiotto e semplicemente dando alimentazione spingendo il bottone questo non si accende più. Una volta aperto il coperchio vediamo, allora qua abbiamo la sezione di controllo, il carrello per il disco e questa è la parte di alimentazione. Come prima verifica vediamo se c'è alimentazione. Il fusibile è buono, l'abbiamo già verificato. Guardiamo sulla capacità di raddrizzamento la tensione presente. Ok, 312V è la raddrizzata della tensione di rete. Qua è negativa perché ho semplicemente invertito i puntali. Questo alimentatore è un flyback che è appunto la topologia più diffusa per questo tipo di alimentatori basso costo. Vediamo se genera le tensioni che sono scritte qui in serigrafia. Sul connettore 2 dovrei avere fra il pin 1 e il pin 2 la 5V. Ho rimosso il gecchettino e ovviamente la 5V non c'è. E questo giustifica il fatto che tutta la logica è spenta. Vado a prendere la tensione su questo diodo che essendo un flyback è il diodo di potenza del flyback e vedo che non c'è tensione. Quindi qualcosa non va su questo circuito. Tra l'altro noto, ecco qua si vede bene, che questo condensatore elettrolitico sembra essere esploso. Infatti si vede che addirittura è proprio gonfio e ha perso anche della parte inferiore. Come prima cosa andiamo a disaldare questo condensatore che sicuramente non è più buono. Ricordiamoci sempre di togliere tensione, ecco, quindi in questo caso, ecco, semplicemente mettendo il cacciavite fra i terminali più o meno il condensatore lo scarichiamo per lavorare se è sempre in sicurezza. Ho disaldato il condensatore, eccolo qua. Dovrebbe essere un 2200 micro 10V, leggiamo 9 micro e 3, quindi questo è proprio andato. Proviamo a sostituire questo primo condensatore. Ecco il condensatore di saldato, si vede che ha lasciato la traccia che si è proprio squagliato sulla sagoma. Ecco, sostituo il condensatore con un equivalente da 2200 micro 10V, ma nonostante questo ancora non si accende. Il prossimo passo è controllare le giunzioni, quindi andare a vedere di questi diodi se sono integri e quindi proprio i semiconduttori. Cominciamo col primo diodo, ok, questo è buono da 590 millivolt, secondo, quindi anodo e catodo. Ecco, questo è in corto, bene, sostituiamo anche questo. Il diodo in corto è un FR104. Questo qua è un diodo fast switching, quindi è un 400V 1A, ma soprattutto la cosa che interessa è il reverse recovery, quindi il tempo che ci mette per spegnersi. E tipicamente è 150 nanosecondi, devo trovare un equivalente. Nei cassetti trovo dei BYT 1A 400V, che vanno bene perché sono anche questi dei fast switching, con addirittura reverse recovery di 50 nanosecondi. Anche il C108 risulta essere non più con la capacità nominale, infatti si vede che è un po' gonfio. Questo era un 330 micro 16V, lo sostituisco con un 470 micro, perché il 3,30 non ce l'ho. Tanto guardando poi lo schema si vede che è semplicemente un raddrizzamento, quindi anche se c'è un po' più di capacità non ci interessa. Ora che i componenti visibilmente guasti dello switching sono stati sostituiti e non abbiamo ancora il funzionamento, i sospetti ricadono sul controller, cioè questo integrato che sostanzialmente pilota il flyback alla sua frequenza di switching. L'integrato in questione è questo IC2A0565Z della Infineon, che è un PWM Power Management e Multimarket. In pratica è un chip che serve per pilotare i flyback. Infatti andando a guardare lo schema di questo integratino, abbiamo che c'è tutta la parte di controllo con soft start, lettura del feedback di corrente, sensing della corrente e il MOSFET che è integrato dentro il package DIP8. Quindi questo integrato viene collegato al trasformatore del flyback e sostanzialmente il MOSFET fa switchare il trasformatore per ottenere le tensioni in uscita al convertitore. Da datasheet il modello in questione è un 650V, frequenza di switching fissa a 67kHz, con una RDS-ON del MOSFET di 4,7Ω che lo porta appunto a gestire una potenza sulla 230VC di 25W. Come prima verifica mi posiziono sul drain e massa, quindi metto il terminale positivo più sul drain e il negativo sulla massa dell'integrato e vediamo se effettivamente il MOSFET interno switcha. Quindi andando a osservare con l'oscilloscopio la tensione fra questi due punti, diamo tensione, ecco che la tensione si è portata alla continua che è la 300V. 311V, 311V raddrizzata, ma il MOSFET non sta switchando. Ecco che mi sono posizionato ai capi della RSTART, diamo tensione, ecco che vediamo che ai capi della RSTART c'è circa 150V, cioè la metà della mia VCC. Questo non è un buon segno. Se a cavallo di questa resistenza ci sono 150V, significa che VCC e GND sono messi in corto dall'integrato, quindi questo integrato molto probabilmente è in corto circuito. Un'altra possibilità per cui VCC e GND mi risultano in corto in realtà è data anche dal fatto che questo diodo possa essere in corto circuito, in quanto questo diodo è collegato a questo avvolgimento di flyback che ha un estremo GND. Quindi se questo fosse in corto, avrei la bassa resistenza di avvolgimento in corto con il mio VCC. Andiamo a vedere l'integrità del diodo, semplicemente con il tester. Ecco, effettivamente qua lo trovo in corto. Proviamo a smontarlo e vedere se effettivamente è rotto. Ecco, ho scollegato il diodo da una parte, quindi metto il puntale del più sull'anodo, nemmeno sul catodo. Ecco, leggo un'aggiunzione di 730mV, quindi il diodo è buono. E allora il corto è sull'integrato. Infatti, se vado fra i pin 7 e 8, che sono VCC e GND dell'integrato, abbiamo il corto circuito. Come ulteriore conferma che è l'integrato in corto, l'ho smontato. Andiamo a vedere, con l'integrato fuori dal circuito, effettivamente è proprio in corto. Ecco il cimitero dei componenti già morti, quindi abbiamo un diodo FR04, due condensatori da 330μ, un condensatore da 2200μ e infine l'integrato che mi fa il PWM controller della Fairchild. Al posto dell'integrato, ho inserito uno zoccolo, di modo che così, se si rompe nuovamente, possiamo sostituirlo in maniera facile. In attesa di mettere il componente sostitutivo, faccio una prova con un MOSFET, quindi un MOSFET IRFZ44, che regge al massimo 50V. Quindi faccio tutta la prova devoltato, quindi parto dal VARIAC, che mi dà una tensione di circa una trentina di volt. Dopodiché collego il mio MOSFET, eccolo qua. Lo collego esattamente ai pin che sarebbero rappresentati dal MOSFET interno. Il MOSFET lo piloto con un generatore di funzione, alla stessa frequenza che verrà poi impostata dall'integrato, cioè 67kHz. Andando a osservare la forma d'onda fra drain e source, trovo appunto la 67kHz switchata. Quindi in questo momento il flyback sta funzionando con un MOSFET equivalente al mio controller PWM. Ovviamente la tensione che ottengo in uscita non è 5V, non è stabilizzata, però questa prova mi fa capire che una volta sostituito l'integrato dovrebbe tornare tutto come dovrebbe essere. In sostituzione dell'integrato ICE 2A0565 trovo quello successivo, che è l'ICE 3B0565, in quanto questo è diventato obsoleto e Infineon produce solo questo. Osservando il datasheet abbiamo che lo schema elettrico e il pinout sono assolutamente compatibili, per cui è un equivalente. Sostituito l'integrato e dando tensione, però il circuito non va ancora a regime. Questa volta ovviamente non c'è più il corto fra il pin 7 e il pin 8 dell'integrato, ma comunque non è alimentato, perché andando a guardare VCC troviamo 0V. Accanto all'integrato nodo che è un diodo Zener, verifichiamo la sua integrità. Qua non risulta buono come controllo giunzione, quindi probabilmente questo Zener, non essendo buono, non fornisce la tensione VCC necessaria all'integrato PWM. Ho sostituito il diodo Zener che creava la VCC per l'integrato, allora il diodo che ho trovato rotto era un 18V, io non ce l'avevo messo un 15V, ma secondo me dovrebbe andare bene lo stesso. Diamo tensione per vedere se effettivamente abbiamo la VCC sull'integrato. Ecco, dando tensione si vede appunto che abbiamo 15V e 25V, ok. Ho sostituito anche il diodo di Zener che è attaccato al pin VCC. Serve un diodo di Zener da 18V, solo che non ce l'avevo, per cui io ne ho messo uno da 15V, punticelato con questo, che è da circa 4V, quindi viene 19V. Poi metto due sonde fra il drain dell'integrato PWM e la massa, e accendiamo. Qua mi accorgo che c'è la pista che si è interrotta, infatti è venuta via la parte di rame, per cui questo punto di massa lo vengo a prendere, essendo la stessa zona di meno, lo vengo a prendere qui, che questo reoforo non era utilizzato, per cui lo Zener lo vado a saldare da qua, tanto è in collegamento elettrico. Accendo la 220V, ecco qua, perfetto. Fra drain e massa c'è la frequenza di switching dell'integrato lavoratore PWM. Come ci aspettiamo, la frequenza è appunto di circa 67kHz. Si vede che c'è un po' di ringing, comunque l'integrato sta switchando, quindi avendo dato la 230, il power supply è riparato. Ricollego i morsetti che portano all'unità del disco e alla CPU, e proviamo ad accendere. Ragazzi ci siamo, è di nuovo operativo, quindi alla fine il guasso era localizzato nella parte del controllo, che crea la power supply, che è un flyback, e sostituendo tre condensatori, due Zener e l'integrato del PWM, abbiamo recuperato il lettore DVD. Proviamo anche ad aprire il carrello. Perfetto. Quindi tutte le alimentazioni date dallo switching, riparato, sono buone. In conclusione, quindi possiamo dire che questi modelli di lettori DVD, DVDX economici, da circa una trentina di euro, montano più o meno sempre le stesse schede. Nel mio caso era un guasso power supply, che penso che sia una cosa abbastanza comune. Quindi procurandosi pochi componenti si possono riparare facilmente. Grazie. Grazie. Grazie.